Bella a tutti asfaltoni, benvenuti su LeonTube, eccoci qui su questo nuovo Grand Prix negli eventi speciali andiamo un attimo a vedere, ecco il Grand Prix, l'evento speciale Pagani, Zonta, HP, Barchetta andiamo a vedere, quindi è iniziato proprio oggi, da poco dobbiamo fare l'allenamento, soddisfa 3 requisiti per sbloccare nuovi premi e accedere a Q1 ok, andiamo a vedere quali sono i 3 requisiti che ci servono dobbiamo fare 3, possiamo farne anche uno di questo e uno di questo batti il tempo di 1,20 o batti il tempo quindi di 1,19 ovviamente se battiamo il tempo di 1,19 ci da subito 2 requisiti quindi basterà fare 2 giri la pista è corta, quindi il tempo non è difficile da battere dopodiché sbloccheremo questi altri tempi qua questi altri premi qua, andiamo un po' a vedere qui la classe A ok, le solite macchine, andiamo a vedere questo è il pacchetto del GP eccoci, potremmo trovare l'epico o il progetto comunque della Zonta HP Parchetta oltre che i pezzi di importazione quindi andiamo a fare il nostro giro vi facciamo su allenamento allenamento, avete visto io ho già fatto 1,20 e 5 possiamo potenziare l'auto qui, è la prima stella questo GP ci consente di vincere la chiave vedete lì la chiave oppure potremmo andare nel negozio se vogliamo provare a vincere la chiave di quest'auto e prendere i pacchetti eccoli qua, li vedete sono questi due pacchetti qua in questo da 75 troveremo i progetti della barchetta in vetrina, li vedete possiamo trovare quello da 15 o quello da 3 andiamo a vedere la frequenza il 10% come solito ma potremmo anche trovare questi il 10% non vuol dire che ogni vuol dire che ogni 10 pacchetti potete trovare uno di questi due all'incirca però a volte esce anche un po' di più vi consiglio di prendere i pacchetti da 7,50 se volete potenziare quest'auto non questi singoli da 10 ma questi da 7,50 perché non so se è un'impressione ma sembra che escano un po' di più in quel modo o perlomeno la sensazione è quella altrimenti si può optare per il pacchetto da 100 il pacchetto da 100 potete trovare anche la chiave qui in questo caso andrete a spendere 1000 1000 token blu per avere 10 pacchetti la frequenza vedete sempre al 10% l'oggetto in vetrina ovviamente sto parlando prima l'avevo tralasciato gli oggetti in vetrina in questo caso sono 3 e quindi diciamo c'è la probabilità che escono in teoria è il 10% però diciamo che le persone che comprano questi pacchetti è molto più facile trovare i progetti soprattutto è molto più facile trovare questo qua da 3 questo da 15 è molto più raro non hanno la stessa frequenza di uscita né la stessa probabilità tanto meno la chiave che è ancora più rara ok detto questo andiamo a fare quindi il nostro i nostri tentativi le nostre tre prove ricordiamo stare sotto l'1,20 questa pista è abbastanza facile è la pista della Scozia il faro è anche una pista corta quindi ci vediamo tra poco eccomi qua vedete mi sono qualificato con il tempo di 1,18,9,7,4 ho fatto due requisiti di questi un requisito di quest'altro e mi sono qualificato ora mi ha sbloccato questi altri premi vedete questi tre qua e dopo questi altri dobbiamo qualificarci poi per i round successivi quindi per ora è tutto vi lascio giocare a questa pista Scozia il faro e divertirvi e ci vediamo presto con le altre tappe del GP ciao a tutti ciao a tutti